Allora, Mista, siamo arrivati a un terzo del giorno d'andata, ci troviamo a vantare la seconda difesa del campionato e il terzo attacco. Questo non cambia, domani devo fare una partita, non so, i numeri alla fine contano sempre, è una squadra abbastanza più liberata. Da dei due fatti sono contento, però voglio parlare molto in bassa voce perché è una partita molto vicina, però in generale è una squadra che mantiene abbastanza equilibrato sia in fase offensiva che in fase difensiva, quindi sono abbastanza contento. Il finale con il Bari ha divertito molto la tua spregiudicatezza, aver messo in campo tutte le tue risorse d'attacco chiudendo con questo 4-2-4, un modulo secondo te che è possibile riproporre già dal primo minuto oppure è troppo spregiudicato? Ma, non esistono moduli spregiudicati, bisogna lavorare sulle situazioni di gioco. Io credo che la partita potevamo vincere la prima, nel primo tempo dove l'abbiamo veramente dominato. Loro hanno fatto, hanno avuto qualche occasione, nel secondo tempo, hanno fatto bene, hanno fatto i complimenti al Bari, poi ho detto, sono così, in qualche recensione, mi vuole mandare un DVD della partita, io sono molto contento, io lo guarderò con tanta attenzione, ma credo che è meglio quello guardi lui, visto che non vince mai, quindi siamo contenti e viviamo la giornata. Grazie a tutti.